Perché iscriversi all'università se poi non si riesce a trovare lavoro e bisogna andare anche all'estero? Lo abbiamo chiesto alla magnifico rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio. Vediamo. Sono un ottimo laureato, deluso, sono andato all'estero, mi convinca a tornare. Beh, ci sono molti piani per il rientro dei cervelli, per le chiamate di professori per chiara fama. Abbiamo avuto la possibilità di farlo con tanti colleghi. L'importante è che creiamo anche le condizioni di lavoro che siano favorevoli. Perché un ricercatore da solo, soprattutto nei settori cosiddetti pesanti della ricerca biotecnologica, biomedica, ingegneristica, se non ha laboratori, se non ha fondi, se non ha un'equip con cui lavorare, da solo non può far nulla. Un rettore di un'università di grande livello, un'università europea, come prima cosa, subito, cosa deve fare per arrestare il degrado? Immediatamente deve reclutare docenti di qualità, ricercatori di vaglia, conosciuti a livello internazionale, migliorare le strutture per l'accoglienza e per lo studio, le aule e le biblioteche, e soprattutto entrare nel circuito europeo, aumentare lo scambio degli studenti e dei docenti. Disoccupazione giovanile a livelli insostenibili. Come può l'università contribuire a combatterla? Ma ci sono dati Istat che dimostrano che nonostante quanto oggi è presente nell'immaginario collettivo, studiare e laurearsi è un vantaggio notevole per poter poi avere la propria collocazione sul mondo del lavoro. L'università italiana è davvero in disarmo? Un intervento immediato se deve essere salvata? Ma l'università italiana è cronicamente sottofinanziata. Anche oggi nel nostro inaugurazione dell'anno accademico porteremo dei dati internazionali che dimostrano come il nostro sistema complessivamente in Italia sia fortemente sottofinanziato. Ciò nonostante la produzione scientifica per ricercatore, dei ricercatori italiani è la più alta al mondo. Quanti soldi servirebbero a questa università adesso? Beh, io direi che noi avremmo sicuramente bisogno di qualche centinaio di milioni di euro in più per riuscire a fare un piano di sviluppo che ci porti all'altezza delle grandi università europee. Non è molto, si può fare.